80 ml d'acqua 50 ml di olio extravergine 100 g di farina 1 Ho aggiunto poi altri 100 g di farina integrale Aggiungo ovviamente i liquidi Ed ecco la mia pasta brisè fatta in casa Bella morbida, una favola Ho tagliuzzato 4 belle zucchine medie Vado a rosolare una decina di minuti le mie zucchine fritate Fiamma media per 2 minuti, poi bassissima per 8 Trascorsi gli 8 minuti controllo, le mie zucchine sono pronte, adesso le metto nel piatto Nella stessa padella metto ora 2 pomodoretti che ho tagliato a pezzi, sbucciato e tolto i semi A fiamma alta per 2 minuti, non le ho messi con le zucchine perché sennò avrebbero tirato fuori troppa acqua Dopo 2 minuti controllo, i miei pomodori sono spettati Pre riscaldo il kit forno Aggiungo nella mia teglia già coperta con la carta forno L'impasto che ho spianato Ho messo le zucchine e i pomodori E messo un etto e mezzo di feta sbriciolata sia sopra che sotto E ho arricciato i bordi Ho inserito la mia teglia dentro il kit forno con questo arnese E ora a fiamma alta per 4 minuti Dopo 4 minuti a fiamma alta controllo, adesso lascio la fiamma medio-bassa per 30 Dopo 30 minuti controllo, ecco qua, è pronta, adesso lascio in autocottura per 10 Ed ecco pronta la mia bellissima tortina con zucchine, feta e pomodorini Bellissima la mia crostata rustica con zucchine, pomodorini e feta Bellissima la mia crostata